Le sagre sono salve almeno per quest'anno. Nella nuova riunione della commissione ad hoc con tutti i rappresentanti presenti, si è arrivati alla fine ad una nuova linea, più morbida, che sembra accontentare un po' tutte le parti. E si è risolta anche la questione della pizza, dopo la proposta del presidente della commissione, Francesco Macri, di far collaborare i ristoratori nella preparazione dei piatti. Si è arrivati ora alla concessione finale. Le sagre potranno continuare a fare la pizza, ma potrà essere solo una semplice margherita. Linea più morbida anche sul fronte dei menù, che potranno essere composti da 6-8 portate, purché basate su prodotti della cucina tipica toscana. Flavio Sisi, portavoce del comitato sagre, si è detto soddisfatto. È il massimo che potevamo ottenere. Martedì prossimo nuova riunione della commissione, poi l'accordo, in vigore solo per quest'anno, sarà portato in giunta. Insomma, alla fine, tanto rumore per nulla, si potrebbe commentare.